Nel 1984, mentre svolgeva l'attività di barista e ballerino con il nome di José López Macio Frasquelo Hall, locale Tuvat di Carpi, venne notato da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Umberto Negri. Allora componenti del gruppo CCCP fedeli alla linea, i quali ne furono subito conquistati per la sua capacità di esprimersi fisicamente, assoldato nel gruppo in qualità di artista del popolo italiano, svolgeva il ruolo di ballerino trasformista nei concerti dal vivo del gruppo. Rappresentava, insieme ad Annarella Giudici, emerita subrette del popolo italiano, la parte più fisica e teatrale del gruppo e il contatto diretto con il pubblico punk, in netta contrapposizione ai membri suonatori del gruppo, i quali mantenevano un certo distacco dal pubblico. Nel 1993 Danilo Fattur, chiusa l'esperienza CCCP, forma una sua band, i Fax, e pubblica il suo primo lavoro solista, Fattur & Fax, per l'etichetta sotterranea italiana a cui seguiranno poi una serie di concerti in giro per L'Italia, dall'album venne estratto il singolo Mamma Fiat. Nel 1996, durante uno degli ultimi concerti con i Fax, Fattur incontra era, incontro la B Serpenti, e i due decidono di mettere su un nuovo progetto di Electro Dance Punk Cosmica. Nel 1997 viene così pubblicato il CD Lamour per la Olga, il primo lavoro di questo progetto, contenente uno dei brani manifesto della produzione di Fattur, Cosmic Punk. Nel 2000 il progetto continua, esce Fatturismo, sempre per la Olga, un lavoro che mischia l'elettronica con il rock elettroacustico, e che affronta temi che spaziano tra futurismo, macchine, donne, viaggi nella società. Dall'album viene tratto il singolo trabande punk che verrà pubblicato anche nella compilation di Radio Lupo Solitario, tra il 1997 e i primi anni 2000. Fattur con i fratelli Lugli, già musicisti nell'amore Fatturismo, porterà in giro il tour mix di questi due album che lo vedrà protagonista nei panni di cantante, performer. Dal 2009 Fattur viene chiamato a interpretare e ricordare se stesso come artista del popolo, nei concerti del gruppo Socialismo e Barbarie, cover band dei CCCP fedeli alla linea. Dal 2008 al 2009 ha collaborato attivamente con gli Stan Karazin, gruppo New Wave elettropop della provincia di Modena. Dopo una lunga pausa e qualche ritardo tecnico, nel 2012 esce il nuovo lavoro di Danilo Fattur. Cesso 2012, firmato Fatturendo, di, vi.